Prendere i tempi lì e poi riuscire a fare la curva, ovviamente è difficile. Ora abbiamo meno carico aerodinamico di due anni fa. Ero due o tre secondi fuori e mi sono detto, ma nel giro completo, li posso guadagnare tre secondi qui? Tre secondi sono tanti e ti chiedi, dove? Come? Sto andando il più veloce possibile. Abbiamo lavorato molto sulle curve 1, 2, 3 e 4. Hai perso tre decimi qua e là. La curva 11 era circa mezzo secondo. Poi sei migliorato. Dall'undicesimo giro in tutto. D'accordo. Mi sono detto, mi mancano ancora due secondi. A questo punto sono entrato in modalità competitiva e mi sono detto, prova di nuovo. E i 139 secondi sono arrivati. Ci siamo. E sono arrivati i 138. Ok, ci stiamo arrivando. Mi manca solo un secondo. Nell'ultimo giro sono sceso a quanto? 138? Poi ho raggiunto i 137. E vai! Ho quasi recuperato quei tre secondi. Dovevo avere fiducia nella macchina, in me e divertirmi. E mi sono divertito. E mi sono divert Bolsonaro che si buono. E non era tipo un tipo di prediozza che a doveva andare in un secondo? E che un po' di fulgруго?